Il campionato del mondo è finito. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano. Grazie! 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 Giovino, dove dobbiamo andare al parcheggio? Eh? Dove? Sempre sopra! Mi ha saluto a chiamare a buio, a chi non è solo in coppia. Sempre sopra! Grazie! 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 Ciao Vito! Sarai pensando, ma questa chi è? Ebbene, te lo spiego subito. Ti ricordi quando sei venuta l'ultima volta in città a Roma? Eravamo a Villa Borghese e tu eravamo come una scimmia. Fatto sta che appena sono uscita dal catenismo, tu stavi insinuando che eri il famoso padre Egidio e regali regalavi tanti santini e recitavi fantasiosi parabole del Vangelo. Eri troppo sexy con quella tonaca e quando mi hai portato nel confessionale non ho saputo resistere. E ora sono incinta di tuo figlio che ti aspetta per le tue responsabilità o almeno qualche alimento. Ti mando un bacio e ti aspetto per il secondo. Un bacio da tua prescina. Un bacio da tua prescina. Adesso parliamo di un'altra storia. Vediamo di chi si tratta. Ha accettato l'invito? Maria, sì, ha accettato il tuo invito ed è qui con noi. Si immagina chi l'ha mandato a chiamare? Apriamo la busta. Un bacio da tua prescina. Un bacio da tua prescina. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti